La sezione elenco massimali propone degli esercizi di riferimento per valutare la forza muscolare dell'atleta. Naturalmente c'è sempre la possibilità di arricchirlo creandone di propri dal pulsante più. Dall'icona dei dettagli a sinistra dell'elemento compare la scheda completa di tutte le informazioni come la descrizione dell'esercizio, il gruppo muscolare coinvolto, se eseguibile con entrambi o con un solo arto e un'immagine o disegno.